sardegna la resistenza dal cuore antico di milena agus ci trovate nel mediterraneo fra i 38 gradi 51 primi e 41 gradi e 15 primi a nord dell'equatore e fra gli 8 gradi 8 primi e i 9 gradi 50 primi a est del meridiano di greenwich arrivando dal mare cagliari come dice herbert lorenz potrebbe farvi pensare a gerusalemme i cagliaritani dicono che cagliari è la città più bella del mondo perché c'è il mare dentro la spiaggia del poetto una larga striscia di sabbia lunga 12 chilometri è raggiungibile con l'autobus p come poetto a settembre il poetto è più bello che nelle altre stagioni ma in qualunque periodo dell'anno può essere un magnifico nascondiglio nell'altra stagione dovete arrivare molto presto quando il promontorio della sella del diavolo spunta dalla nebbia mattutina qui il tempo ha un ritmo tutto suo indipendente dalla vita quotidiana ci si sente più leggeri ogni problema arriva con le onde che poi se li portano via i cagliaritani trovano l'odore dell'aria buonissimo inconfondibile sa di salsedine e catrame sapone e muffa sugo fritto e gezzomino la marina uno dei quartieri più antichi è un fronte del porto i suoi abitanti un tempo erano chiamati culus sfustus culi bagnati perché si diceva che l'acqua di scarto di castello rocca dei nobili scorresse verso il basso fino al mare adesso alla marina ci abitano i naufraghi fulliaus desa maretta buttati qui dal mare un vocio di poveri arrivati dai paesi del terzo e del quarto mondo che per gli arabi si trasforma in assoluto silenzio all'ora della preghiera quando il muessin parla dagli altoparlanti di una casa adibita a moschea le naufraghe sono tali e quali alle donne sarde di un tempo quando fa bello si siedono sulle panchette ai bordi delle strade a chiacchierare riflettere cucire ricamare se entri almeno un po in confidenza e sei una donna come loro sola e magari anche un po triste ti prendono subito a file anima figlia dell'anima allora potrai trovare davanti alla porta di casa segno dei tempi che cambiano non i nostri pani formaggi vini olive sardine culurgiones malloreddus e piricchitus ma dei piatti di cuscus felafell kefta tagine e se chiederai nella tua lingua come va nella loro ti risponderanno mashallah come piace a dio assorto in un silenzio conventuale è il quartiere di castello quello in alto sulla rocca un tempo il posto dei nobili ora per lo più decaduti ma restano i loro palazzi cadenti e meravigliosi molti costruiti nel seicento doni dei re di spagna palazzi con lunghi balconi centrali dalle balaustre formate da statue di gesso stilizzate finestre incorniciate da colonnine e sormontate da frontoni che racchiudono timpani con angeli ingressi sontuosi con i busti degli avi tutti attorno a delle nicchie i vicoli sono bui le strade senza sole come pozzi dice lawrence ma la luce accecante e i panorami infiniti arrivano in soprassalto in fondo alle vie oltre i tetti una sorpresa che lascia stupiti perfino noi cagliaritani quando il vento che soffia quasi sempre spazza via la polvere rendendo nitidi i contorni tutte le cose a cagliari dipende tutto dal punto di vista dalle zone più in alto monte urpino castello se la del diavolo potete vedere lo stagno di molentargius i fenicotteri le vasche delle saline separate dagli argini verde chiaro grigio azzurro rosa che non sembrano neppure contenere acqua ma una sostanza solida leggera simile alla polvere degli ombretti dal basso la palude si trasforma l'acqua sembra cielo gli uccelli affondano le zampe fra le nuvole vicino ti accorgi che è fango ma al di là del fango sull'acqua le gallinelle le folaghe alle volte il pollo sultano vestito del suo manto azzurro regale verso di clarino e dita eleganti che sanno prendere il cibo ma soprattutto le anatre codino in testa come le bambine il becco che ride o il moriglione timido imbronciato la pesciaiola spiritosa sotto il colbacco di pelo bianco e nero il falco volteggia su quel ben di dio e sono proprio le anatre così timide e disponibili buffe e spensierate quelle per cui dovete avere più paura gli esperti vi spiegheranno che se non chiuderanno gli occhi neppure per dormire se sapranno sognare a occhi aperti resisteranno ce la farà la sardegna a resistere fino in fondo si domanda lorenz ha resistito ci chiediamo noi il cambiamento è arrivato dal mare prima a chi pensava alla nostra isola da lontano il mare non veniva nemmeno in mente soltanto monti a fratti selvaggi querce piegate dal vento pecore capre ma da quando l'aga can ha inventato la costa smeralda c'è stato soltanto il mare noi sardi abbiamo pensato fosse arrivata la nostra grande occasione la nuova vita e abbiamo svenduto la terra lasciato che costruissero dappertutto per far arrivare le strade asfaltate alle spiagge a questa febbre dell'oro molti di noi hanno partecipato sradicando incendiando e riducendo in cenere ettari ed ettari di macchia mediterranea perché ci si potesse costruire ma in tanti l'abbiamo difesa questa sardegna mischinedda parola amorosa che usiamo qui senza commiserazione ma per indicare la fragilità di tutte le cose gli antigori e i nannai letteralmente l'antichità di nonno un po come voi dite ai tempi che berta filava cioè ai tempi in cui bertrada la mamma di carlo magno filava la lana respingevano il progresso i moderni dicevano loro volete soltanto le pecore volete vestirvi di orbace volete la puzza del formaggio pecorino perché chanel numero 5 vi fa schifo ancora oggi molti pensano che i difensori della nostra terra non abbiano la testa a posto e siano fuori dal mondo ma è grazie ai matti se ci sono ancora posti dove la sardegna ha resistito a punta is molentis e punta porcedus non c'è niente soltanto un mare trasparente a macchie turchesi zaffiro lapislazzuli la cui spunta l'isoletta di serpentara soltanto scogliere granitiche argento e oro narcisi sulle colline cisto fiori azzurri di rosmarino gigli selvatici le dune di chia non sono quelle di una volta ma ci sono ancora potete sedervi togliervi le calze le scarpe e scivolare nelle discese di sabbia bianca che vi portano dolcemente in acqua e non c'è niente neppure a mari ermi dove il mare ha un colore unico al mondo celeste corredino di neonato nell'isola di san pietro nasca sembra la luna attraversati i campi le vigne e i frutteti sempre verso nord est partendo da carloforte finché raggiungete un vecchio acquedotto abbandonato e una diga distrutta il mare appare insieme a una scarpata ai vostri piedi le scogliere argente vi ricorderanno i crateri lunari colmi d'acqua gelida e piatta lastre di marmo verde cupo che sostituiscono la sabbia oltre la scogliera il mare minaccioso le onde rugiscono e si gonfiano altissime poi si abbattono sulla scogliera con fragore volutamente come per morire grati ai matti potrete godervi questo ben di dio ma in sardegna non ci sono soltanto il mare e l'estate dovete venire in inverno quando c'è la neve dopo le brughiere con pochi alberi da orgosolo salite a punta sapruna attraversate la foresta montes poi continuate fino al circolo megalitico di dovilino e attraversate i monti che collegano il gen argento al supramonte fino a mamoiada i lecci della foresta montes non sono mai stati tagliati immersa nel silenzio è una delle poche primarie della sardegna il lago di oladi compare dopo un lungo cammino attraverso i boschi di roverelle dai tronchi sottili che si intrecciano fra loro a forma di fiocchi di neve lorenz parla di un luogo fosforescente di una grigia incandescenza di rami nudi e miriadi di ramoscelli dal freddo splendore che riluce più su c'è fonni il più alto paese della sardegna dove potrete andare a sciare in barbagia c'è gavoi miraggio in montagna dai giardini con le più belle ortenze del mondo da certi punti del paese vedete il lago di gusana che cambia colore tante volte al giorno passando dal rosa al celeste cenere al rosso al viola e se salite sul monte gonare ed è sereno vedete il mare del golfo di orosei le case sono alte di pietra a due o tre piani e spesso attaccate fra loro e qualcuna è come appesa fra due appoggiata a una trave orizzontale e sotto ci sono dei cortili aperti quasi bui pieni di fiori le case di gavoi hanno resistito ma non nella maggior parte dei paesi sardi nel campidano stavano tutte attorno a un cortile c'era spesso una palma e dei fiori nei barattoli di vetro delle olive le stanze con il pavimento rosso di cotto prendevano la luce dall'oggiato nel cortile c'era un pozzo e la carrucola d'estate cicolava ininterrottamente perché si riempivano i secchi d'acqua fredda per metterci dentro le gazzose i portali sormontati dall'arco sono stati sostituiti dai cancelli di ferro salolla il loggiato abbattuti il muretto basso che la separava dal cortile e i pilastri di legno è stata chiusa con una vetrata di alluminio il piano superiore molto basso che si affacciava sul tetto della lolla dove prima c'era il granaio è diventato una mansarda i ripari dei buoi la legnaia trasformati in garage per le auto le aiuole ridotte a un sottile perimetro addossato al muro il pozzo tappato col cemento il tetto di tegole sopra il granaio adesso mansarda sostituito con un terrazzo dal parapetto con i mattoni forati le mattonelle incotto di colori diversi che facevano sul pavimento disegni simili a quelli dei calidoscopi coperte dal grass ai sardi che vedevano lontano e dicevano che stavano distruggendo tutto per non ottenere niente rispondevano volete le case senza l'acqua come un tempo un bicchierino per i denti una bacinella per il viso da usare anche per il bidet e poi giù fino ai piedi e l'acqua rimasta per il gabinetto in sardegna a un certo punto nessuno voleva fare più il contadino o il pastore volevamo lavorare tutti in fabbrica la riforma agraria in sardegna è stata timida e il piano di rinascita tutto sbagliato fondato sulle industrie chimiche e siderurgiche che qui da noi non ci fanno niente impiantate da continentali con i fondi pubblici perché invece il futuro della sardegna sarebbe stato nelle industrie manifatturiere che avrebbero tenuto conto delle risorse già esistenti per questo i prodotti delle nostre industrie di trasformazione hanno qualcosa di poetico preziosi oggetti da museo con i nostri marchi nei supermercati e la gente nel freddo splendore del gen argentu forse potrete incontrare ancora qualche uomo con la berritta un lungo berretto a calza maschile qualche donna con il mucca d'ore un copricapo femminile di lana o a mamuiada i mamutones tipiche maschere del carnevale che quando si tolgono la paurosa maschera hanno oggi visi da bambino e mani affusolate da pianista perché gli indomabili sardi ormai non fanno più paura a gavoi c'è un folto gruppo di antigori e nannai che non si perde un concerto rock in continente o all'estero noi sardi della sardegna ce ne vogliamo sempre andare via come si fa a vivere in un posto come questo ma poi vogliamo sempre tornare perché abbiamo troppa nostalgia e fuori dalla sardegna ci chiediamo ma cosa ci faccio qui non mi sento neanche più io e non è un caso se parlando di porto torres diciamo che la nostra isola sorge dalle acque della foschia rosata e mai che scompare con i forestieri siamo ospitali ma restiamo dei solitari a lawrence siamo apparsi i soli veramente educati che avesse mai conosciuto nessuno sfoggio di noi in nessun senso come se sapessimo che nel principio e nella fine un uomo è solo e gli artisti si affollano d'estate nei numerosi festival soprattutto gli scrittori sognano che si dica di loro quello che tanti lettori forestieri dicono di grazia dell'edda ah sì questo della sardegna lo so l'ho letto nei suoi libri